Musica 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 Con Folli preferisce la penetrazione Scarico per Tordini, extra pass per Agusto Vede sotto Folli Qualche contatto e segna Dal Pozzo Alcuni stati fa molto vicino A vestire le maglie di Ozano Casadei la tribla è subito Imola che arriva dalla vittoria per 2 a 0 con Montecchio Augusto intanto festa la riga, due punti per lui il gruppo Skid intanto Zitario che resta in tiro, prima l'errore questa volta segna 6 a 5 ai playoff abbiamo sotto la nostra postazione anche Jacopo Preti intanto Nucci e lui ce l'ha la mano calda e se inizia col passo giusto va molto bene Dordale, tap in ecco Nucci molto bene in attacco, finta di passaggio post pass per Casadei, scarico per Dal Pozzo, extra pass per Zitario fallo, trazione poi si ferma adesso vuole attaccare Casadei, la finta Casadei, d'esperienza vola al contropiede da Giallo Nero va fino in fondo Ranocchi vediamo se quest'anno si raccontrà la promozione con la squadra dal fiume segna subisce il pallo e andrà con tiro libero supplementare ancora dal Pozzo prova il mismatch contro Augusto va fino in fondo l'appoggio e segna che riprende la palla di Augusto poi Masre prova la penetrazione va fino in fondo fuori lo scarico l'extra pass bella bella azione non va il tap in di Mattia Masre Chiusolo sotto per Morara al taglio da parte di Magagnoli 26 secondi a termine del primo quarto palla per Dalfiume si inventa un canestro per Magagnoli la penetrazione di Chiusolo scarico per Morara va fino in fondo scarica ancora per Chiusolo sotto canestro e poi Dordei il passaggio ovviamente l'avevano studiata questa possibilità intanto andiamo a vedere cosa succede con Dordei in post passo si gira tiro bello bellissimo passaggio ma prende gli applausi comunque da parte del suo allenatore perché era un'ottima idea Ranocchi dall'angolo la tripla di Ranocchi con Esitario con la penetrazione lo scarico per il numero 21 giallo-nero recuperato dai New Flame Boss seconda danne che va fino in fondo e va a fare un canestro minuti a termine del secondo palco Zitariuk per Ranocchi che prova la penetrazione lo spezza a caviglia di Ranocchi su Corcelli e poi mette cavalcata per riportare tutto Ozzano al palazzo Morara l'appoggio al vento l'altra parte con Chiusolo si ferma scarico per Folli che riesce ad arrivare fino in fondo prende gira prilla poi trava un tiro scarico adesso di Corcelli per Dordei a polta al vento Canestro tanti contatti Zitariuk per Casadei Casadei molto lontano da lì da tre punti cerca un tiro poi non lo prende un raddoppio di Nuzzi di Augusto su Nucci vuole il contropiede l'araco vola segnare Mario Chiusolo punteggio molto basso per queste due squadre dal fiume per Boero lasciato libero da tre Boero tripla e Augusto Chiusolo lo scarico per Folli la penetrazione ancora del numero 6 Bianco Rosso scarico per Corcelli vuole entrare in partita ci entra con la tripla Lucio Corcelli non una grande idea mettere la zona 10 secondi alla fine pallone per Dalfiume finta di prendere blocco ma a fine in fondo la appoggia al vetro di Dalfiume arriva tutti dalla cittadina in provincia di Bologna Augusto per Dordèi si gira la tira e va a segno infiettata da Folli Corcelli vuole il pick and roll con Dordèi la penetrazione di Corcelli va fino in fondo si allontana il pareccio e siamo pari ed è tutto da rifare imolese di maglia e di nascita Dalfiume step back Dalfiume Dalfiume step back superare e pallemano per Imola pallone sotto per Zitariuk scarico per Dalfiume ancora Dalfiume vuole la penetrazione movimento di Michael Choran spingere Folli ma Corcelli rallenta penetrazione perfetta da parte di Dordèi scarico per Morara assist di Morara canestro di Dordèi intanto è arrivato una tripla è il primo vantaggio del new plan Bosso Zano è arrivato un vantaggio di Ozzano è arrivato con tripla del solito Dordèi momento cruciale per l'araco intanto l'uccida tre chiusolo piccherò il Condordèi scarico per Morara tiro da tre punti di Morara ci dà ballo di Casadei finta di tiro penetrazione di Casadei recupera palla Morara vuole andare fino in fondo Morara cosa si inventa poi è rimbalzo Corcelli pallone sotto per Fogli vantaggio Zano palla recuperata del new plan Bosso Morara vuole spingere Morara in soft fire Morara un ball a tre per la formazione della Laco che ha inseguito fino a pochi minuti fa Corcelli prende tiro da tre Nuzio Corcelli vediamo come reagisce vediamo la forza di questa squadra Nucci in forma stasera Nucci che bomba tre su tre Pupola pallone per Corcelli ancora ma che tiro che giro che canestro con Corcelli Magagnoli Morara Masrae e Augusto Morara ancora Morara ancora e ancora Morara un fallo che poteva anche non spendere penetrazione va fino in fondo e viene via da quelle nasce dall'intensità di Titario che ha rimbalzo però non trova il canestro quindi Morara da tre ha fatto agitare Imola che non ce l'aspettavano questo infatti Imola adesso gioca con molta più frenesia finta di tiro prende la tripla Casadei assegna fuori per Magagnoli Corcelli libero da tre se la mette viene giù il palazzo se la fa la dita bella ancora di più rimbalza però di chiuso spessiva adesso la LAC e la Virtusimola Corcelli prende il tiro da tre punti e va tutti i palloni prima rimbalzo che la Morosa di chiusolo qua Corcelli si metteva questo ma si pensa Mario chiusolo zoppiccante Imola ancora Corcelli pick and roll Corcelli vuole la penetrazione va a finipondo lo scarico per Augusto extra pass per Mattia 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 Grazie!